Il campione olandese di biliardo per il 1960 è una donna, Greta van der Werdel si chiama e ne sbaglia poche. In Olanda anche le donne portano a termine un loro campionato al tappeto verde. Boccette, birilli, filotti, martingale, tutta una serie di gare e colpi magistrali da fare invidia agli uomini che guardano, ammutoliscono e cercano di darsi una regolata. Con queste stecche sarà meglio non scommettere i soldi delle consumazioni. Le concorrenti tutto sommato una certa abilità la dimostrano davvero e anche a ben vedere una certa grazia che agli uomini manca. Applausi e coppa alla van der Werden, 60 buche in 45 colpi, in Olanda è un record.